Ciao, per sedure gli uomini devi presentarti come donna materna e protettiva o come donna irriverente penalizzante alla catwoman? Insomma, una donna dominatrice, devi essere accogliente o dominatrice? Allora, questo dipende in generale dal modello maschile, dal maschio che ti piace. Perché intanto dobbiamo tenere presente che nessun pranzo è gratis, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vuoi, diciamo, ottenere dei risultati, devi adattare le tue modalità comportamentali all'uomo che ti trovi di fronte, all'uomo che ti trovi davanti. Perché se toppi non lo fai innamorare. E quindi ci sono uomini che hanno bisogno della mamma, hanno bisogno di una donna protettiva, morbida, materna, che si prenda a cura di loro, che li tratti come il figlio scemo che non è in grado di fare le cose da solo. Altri uomini che invece hanno bisogno di una donna dominatrice, una donna alla catwoman, con frustino, un minigone in pelle e frustino. Come fai a capire qual è l'uomo, diciamo, le caratteristiche dell'uomo? Beh, dipende come si presenta al maschio, diciamo, dipende come si presenta al maschio. È evidente che tu devi prestare attenzione alla sua comunicazione non verbale. Se ti comporti in modo dolce, materno e protettivo e noti dei segnali di gradimento emotivo, vatti a vedere i video dove parlo di segnali di gradimento emotivo, significa che quello è il tipo di donna che seduce, è il tipo di donna per la quale quell'uomo non può fare a meno, è il tipo di donna che lo coinvolge a 360 gradi e non solo a 90 gradi. Quindi questo è... se invece vedi che comportandoti in quel modo lì ottieni segnali di rifiuto, vatti sempre a vedere i video dove parlo di segnali di rifiuto, allora significa che invece probabilmente è attratto dal modello contrario, da una donna più dominante, più dominatrice, una catuoma, una mistress, diciamo, una donna che incarna un comportamento, incarna un ruolo più dominante, insomma, un ruolo... e quindi il maschio in quel caso lì si coinvolge su una donna che lo sa dominare. E questo è... poi ci sono altre modalità, però queste due che sono un po' i due estremi, è importante saperli gestire. È ovvio che a te verrà spontaneo comportarti in un modo, però devi sapere che se vuoi sedurre devi avere entrambe le modalità comportamentali nel tuo, come dire, come frecce nel tuo arco di seduzione, altrimenti alcuni li sedurrai, altri no, e lascerai un po' al caso. Poi, è questione di scelta. È importante avere le... a saper comportarsi in un modo o nell'altro e poi scegliere se farlo o meno. Questo è l'esercizio del libero abito. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al canale YouTube, perché se ti iscriverai potrai, attivando la campanella, avere la notifica delle live, partecipare alle live, ricevere risposta alle tue domande e interagire, divertirti con altre persone simpatiche. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao!